Indubbiamente sì, abbiamo veramente scelto una delle migliori location che abbiamo nel nostro territorio salentino e anche appunto pugliese per accogliere al meglio le migliori produzioni italiane che noi abbiamo selezionato in tre mesi a questa parte. Se si pensa che abbiamo degustato oltre 2.800 vini e ne abbiamo selezionati veramente poco più di un 350, quindi pensate ovviamente quale scrematura è stata fatta, se mi lasciate passare il termine anche se il vino sembrerebbe un po' più azzardato. Quindi avremo senz'altro le migliori referenze italiane e pugliesi a Salice Salentino, a Castello Coneci nel nostro bellissimo territorio pugliese.